L'ittero emolitico costituzionale o malattia di Minkowski-Shoffar è chiamato anche sferocitosi a causa della particolare alterazione morfologica dei globuli rossi, diminuzione del diametro ed aumento dello spessore con riduzione della superficie eritrocitaria. La deformazione globosa degli eritrociti viene attribuita ad un'anomalia della permeabilità della membrana eritrocitaria. L'anemia è dovuta al fatto che gli sferociti, a causa della loro forma, vengono eliminati a ritmo accelerato a livello della misa. Abitualmente la sintomatologia compare nell'infanzia o nell'adolescenza, con itero e sprenomegalia e con i caratteristici segni e metodologici. Nell'adulto sono frequenti le ulcere agli arti inferiori e la lintesi migliare, il raro riscontro nell'età pediatrica. Un'altra caratteristica è la comparsa di crisi di aplasia midollare intervallate da lunghi periodi di benessere. L'intelligenza è normale, la struttura inferiore alla norma o bassa. Le alterazioni osse dipendono dall'iperplasia midollare, compensatoria, che determina l'espansione degli spazi midollari e la trofia dalla spongiosa e dalla corticale. Nella maggior parte dei casi si riscontrano alterazioni osse, sia pure circoscritte, al cranio, le quali nel 25-30% dei casi sono di entità tale da simulare quelle talasseglie. La compromissione cranica, turicefalia, è rappresentata da un rispessimento della diploe, normalmente con rispetto dei tavolati, raramente con immagini di cranio a spasso. Le manifestazioni a livello delle ossa lunghe e degli arti e delle piccole ossa tubulari delle estremità sono infrequenti e si riscontrano solo nelle forme più gravi e nei casi ad insorgenza precoce, quando ancora esiste capacità riproduttiva del midollo osse. La pronosi è più seria nelle forme precoce. Nella grande maggioranza dei casi l'evoluzione è favorevole. La malattia ha una frequenza di 1 a 5.000 e si trasmette con carattere autosomico dominante a penetranza incompleta, talvolta con carattere autosomico recessivo. Circa un quarto dei casi è sporadico. Quadro ematologico Microsferocitosi e talvolta eritoblastosi Diminuzione della resistenza globulare Reticolocitosi Iperbilirubinemia Assenza di emoglobina nomale Nel midollo iperplasia della serie eritoblastica Sferocitosi Bambino di 7 anni Ispessimento diploico con notevole addensamento della volta cranica Turicefalia Solchi basali benevidente Sferocitosi Bambino di 5 anni Ispessimento della vipola cranica con accenno a verticalizzazione trabecolare Sviluppo scheletrico ritardato Spongiosa diradata contrabecolatura grossolana Perdita di modellamento di attisali Burggi Invest Abona 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 Grazie a tutti.